Ci sediamo un attimo per una chiacchierata. Allora, io ho notato in questa casa un caos indescrivibile. Di spazi, di tempi, di persone, di cose, che crea questa confusione per cui in realtà nessuno sa bene che cosa dovrebbe fare. Di questa confusione loro ne hanno fin sopra i capelli al punto che si nascondono sotto la coperta. Questa è una richiesta di pace. Invece qui è troppo. Come possiamo fare? Eh, bisogna rimettersi a riorganizzare tutto dalla tavola che deve essere apparecchiata. Se tu gli dici che devono andare a prendere l'acqua lì, per forza si alzano. Non ci ho mai pensato. Ho detto, finalmente hanno un motivo per essere difendenti autonomi sull'acqua. Eh, ma metti le brocche. No, vero, vero, vero. Il problema è che anche nel momento in cui è pronto, loro comunque si alzano. Ma certo, perché sono abituati così. Non so più come fermarli. Ci deve essere una regola ferrea. Anche i compiti. È un tormento. Sì. Il bambino deve essere in grado di fare i compiti da solo. È in grado di fare i compiti da solo. Ha tanta pigrizia. Ma non è pigrizia, è che sono confusi da un'infinità di cose. E hanno bisogno degli stimoli giusti. In modo che loro si sentano capaci. Ok. Invece di sempre criticati, sempre si fa così. Si è demoralizzante. Dopo uno non ha più voglia di vivere in una situazione in cui è sempre perennemente sbagliato. Deve essere una vita più serena. Eh. Sì. Qui c'è molto da sistemare. Io vi aiuterò. E sono molto esigente. Ok, va bene. Molto esigente. Ma no, va bene. Sono cose che per mente noi non abbiamo visto. Forse sbagliavamo sperando di fare del bene. Visto che lo stress di questo caos lo sentono anche i bambini, c'è da rivedere tutto. D'accordo. Ma no. La cosa che sozera è. Ecco. Grazie a tutti